Sono Lucio Marchegiano, 28 anni e vengo da Genova. Essere arrivato terzo l'anno scorso a Conte Spaine è stata per me una soddisfazione immensa. Ma la mia ispirazione è salire sul gradino più alto del popolo. Ho lavorato molto intensamente sia al mixer sia a studiare musica riprendendo lezioni di piano. Sto sperimentando un nuovo stile che unirà musica live e DJ set mantenendo sempre la mia creatività nelle sonorità progressive e trance. È una strada lunga, ma è questa che voglio percorrere. Ciò che mi rende ancora più determinato è il supporto e l'affetto di chi crede e chi ha sempre creduto che la musica potesse trasformarsi da passione a professione. Grazie di cuore a tutti voi e di moca lupo ai partecipanti. Grazie di cuore a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.